Commedie, tindrama o altri generi, ambientazioni e personaggi da inserire in un film o in una serie televisiva. La seconda giornata dello Zueni Festival parte con il concorso di sceneggiatura per gli studenti del Marconi del Pino, dove 15 giovani della scuola facenti parte delle classi terze, quarte e quinte, divisi in gruppi, hanno presentato i propri progetti davanti al pubblico ed una giuria nella sala Ghio Schiffini della Società Economica. Tante le trame e generi esplorati, frutto di un lavoro portato avanti durante l'estate. È un corso di scrittura per l'audiovisivo, in generale un corso di sceneggiatura, per usare un termine così un po' generico, della durata di una trentina di ore che è avvenuto quest'estate, partecipanti tra i 12-15 ragazzi che hanno affrontato prima delle lezioni di tipo teorico, su quelli che sono i principi dello storytelling, di come si costruisce una storia, e poi c'è stata una parte pratica. Il risultato della parte pratica lo vedremo oggi. Di fronte alle difficoltà che si possono incontrare nel misurarsi con qualcosa di nuovo e nel condividere la progettazione con altre persone, l'atteggiamento degli studenti è stato propositivo. Di fronte al foglio bianco all'inizio, normalmente per chiunque scatta il panico, anche per scrittori, autori, professionisti. Devo dire che poi sono riusciti a trovare la quadra, si sono anche uniti sulle idee che li convincevano di più, e ovviamente con un po' di fatica, ma tanto entusiasmo, tanta voglia di mettersi in discussione. In palio per i vincitori il pagamento dell'iscrizione al seminario Scrivere le serie TV. A prevalere sono state Beatrice Sassarini, Alice Scherani e Giuliano Ferrari Nasi, con la sceneggiatura intitolata Nemesi. Non abbiamo la sfera per capire quale sarà il futuro, non so se qualcuno di loro diventerà uno scrittore, uno scrittore professionista. Sicuramente, spero, questo è l'augurio, diventeranno degli lettori, degli spettatori un po' più consapevoli di quelle che sono dinamiche che stanno dietro le storie e anche di quello che è il lavoro dell'autore per il cinema, per la televisione, come funziona questo mondo, quali sono gli eventuali sbocchi, qual è il mercato.